Ciao Marcello, amici di Top Planet, sono qua da Napoli, giornata spettacolare, per un paio di giorni non mi vedete in onda, ma vi racconterò un po' il clima di questa città, prima della doppia sfida importantissima tra Juventus e Napoli, in ogni angolo si vedono bancarelle e tutto, quindi la città sente già questa partita, anche io un po' la sento, anche se ce la sono stati nazionali e vi racconterò, come detto, quello che avviene, alle mie spalle potete vedere Castel del Lovo, piazza bellissima, giornata splendida e insomma, adesso dobbiamo solo aspettare e poi fino alla fine, forza Juventus!